Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video guida dal vostro Zarcheos in the world Oggi sono qui per andarvi a portare una delle missioni delle sfide della settimana 2 Incominciamo perché la prima missione si intitola Rimbalza su diversi giocattoli per cane a Villa delle Formiche Dove si trova Villa delle Formiche è una dell'isoletta che è spuntata da qualche giorno Ma adesso non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo in game e let's go Ok ragazzuoli come possiamo vedere abbiamo la mappa davanti Ed il punto esatto dove trovare i giocattoli per cani si trova precisamente qui Questa è l'isoletta accanto a siepi d'agrifoglio, molto semplice Adesso scendiamo e vediamo un po' come completarla Eccoci qua ragazzuoli all'isoletta Come possiamo vedere abbiamo trovato già il primo giocattolo per cani Basta semplicemente rimbalzarci sopra In questo caso completeremo la 1 su 4 Dovrebbero essere 4 quindi qua c'è la seconda Qua c'è la terza Poi scendiamo, andiamo un po' più avanti E come possiamo vedere alla nostra destra c'è il quarto Easy troppo, troppo easy E poi di qua magari il quinto E risaliamo Lì c'è il rift Lo prendiamo E ce ne andiamo Come avete visto ragazzuoli E' molto semplice completare questa missione Noi ci vediamo ad un prossimo video guida di Fortnite Io vi ricordo di iscrivervi al canale Attivare la campanella Inserire il codice creatore Dark92 Per supportarmi nei vostri acquisti di Fortnite E quando lo fate mi raccomando di taggarmi su Instagram Darkhouse92 E io vi riposterò nelle stories Noi ci vediamo ad un prossimo video guida di Fortnite Ciao belli